Siamo arrivati da su, come c'è arrivato, giusto? Ah vabbè, certo. Vabbè, però... Pesso non fa così la strada. Così va bene. Questa battuta. Così va bene. Così va bene. È una strada normale, più o meno. Non è male. Io pensavo che il percorso era così. Pesso non ho, non ho. Da lei fuori. Perché non gli giri, se non fuori. Qui sono i sacchi. Guarda fungo. No, chi c'è il fungo? No, l'audio. Quello è il fungo. Ci vuole un aspetto di fungo. Se fai il bagno. Dove sono? Ma ce ne la sacca. Ma che hai? Per poi si fanno. No. Vabbè, faccio la figlia. Ma che ne è? No. 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 in alto che quando giocherai i fuggieri. Ehm. Però prima trasero lo cancello. Prima deve entrare. Guarda che bello qua. questo è una cosa bella